Accogli il regno di Dio come un bambino. Cristo risorto, buongiorno carissimi amici. Leggiamo il Vangelo di oggi, Marco 10, 13, 16. In quel tempo presentavano a Gesù dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Amè. Carissimi, siamo al capitolo decimo di Marco. L'episodio di oggi si colloca tra ciò che abbiamo ascoltato ieri, quindi la discussione e le parole di Gesù in favore del matrimonio e successivamente, ciò che noi quindi ascolteremo lunedì, le parole riguardanti la consacrazione, cioè gli eunuchi per il regno dei cieli. Tra matrimonio e consacrazione c'è questo episodio molto importante in cui portano dei bambini a Gesù, i discepoli li rimproverano perché non era bene e giusto che un maestro, un rabbì, avesse attorno a sé dei bambini, non considerate ancora adulti, ecco perché non li vogliono accogliere in questa cerchia, ma Gesù dice lasciate che questi bambini e tutti i bambini vengano a me perché nei loro volti, nel loro stile di vita, nel loro comportamento, nella loro semplicità c'è il regno di Dio. Infatti poi dice chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. Ecco che si apre quindi una grande parentesi. Innanzitutto la disponibilità che ogni discepolo di Gesù deve avere quotidianamente, un'apertura a ciò che Dio vuole, un'apertura al progetto del matrimonio o al progetto della consacrazione. È giusto porsi la domanda, nella giovinezza soprattutto, Dio tu mi chiami al matrimonio oppure a consacrarmi a te e ad annunciare in tutta la mia vita il Vangelo agli altri? Poi c'è un'altra caratteristica importante, quella della semplicità. Gesù ha chiamato persone semplici che a volte sono state complicate. Pensiamo a ciascun discepolo di Gesù, Simone, Andrea, Giovanni, a volte avevano delle caratteristiche particolari. Gesù dice siate semplici. Il modo di ragionare, di pensare del bambino è così semplice che crede a tutto ciò che gli si dice, soprattutto ad una certa età. Poi quando cresce vede che le cose non stanno così. Ma la fase in cui il bambino è disponibile, riceve e accoglie e crede a tutto ciò che gli si dice, ecco che questa fase deve essere la caratteristica di ogni cristiano. Cioè lasciare che Dio ci sorprenda giorno dopo giorno. È fondamentale perché solo così possiamo fare esperienza del regno di Dio. Ma quando noi mettiamo dei paletti, mettiamo degli schemi, inscatoliamo il regno di Dio e la sua potenza nella nostra vita, ecco che non facciamo più esperienza del regno di Dio. Siamo noi stessi gli ostacoli al suo progetto. Ecco perché saggiamente Marco lo pone tra la chiamata al matrimonio e alla consacrazione, cioè la vita consacrata di chi non si sposa, di chi accoglie Gesù come proprio sposo. Lo vedremo lunedì. Oggi, come dice il Salmo 131, ci mettiamo in questa disposizione. O Dio, Signore, l'anima mia è serena, io sono come un bambino svezzato, quieto e sereno nelle braccia del proprio padre. Ecco così dobbiamo camminare come bambini. Il mondo è complicato, la nostra vita è molto complessa, ma Dio vuole un cuore semplice come quello di un bambino, una mente fresca. Allora apriamo le braccia e diciamo grazie, Signore Gesù, per il Vangelo di oggi. Grazie, Gesù, per come mi insegni ad essere aperto a te, al tuo progetto. Anche oggi metto nelle tue mani la mia vita. Voglio realizzare la tua volontà. Come un bambino accolgo ciò che viene da te, perché credo che tu sei un padre buono, un padre che non mi delude e non mi deluderà. E grazie, oh padre, perché mi hai donato il tuo figlio Gesù che anche oggi entra nella mia vita. A te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lo slogan per oggi è accogli il regno di Dio come un bambino. Lasciamoci sorprendere dal nostro papà, questo padre. Lo Spirito Santo è in noi, ci fa gridare abba padre, sorprendici papà. Donaci di vedere coi nostri occhi le tue meraviglie. E una meraviglia nel prossimo mese, sabato 15 giugno, saremo come comunità e come band musicale Shout Coiononia a Pordenone. Faremo un concerto di evangelizzazione con alcune nostre testimonianze. Se siete nelle zone, vi attendiamo, segnatevi questa data. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani. Ciao! Parlami Signore, ti ascolto 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 Grazie.